Naturalmente da parte del Ministro Stato Comunale di Sant'Orso e anche del Comune di Schio, visto che siamo in un locale che è con proprietà tra i due comuni, il Sindaco di Schio Stasera non poteva, comunque il Comune di Schio è rappresentato da Giovanni Battistella, Presidente della Commissione Consigliare Tecnica. Quando qualche anno fa i due comuni hanno fatto lo sforzo di acquistare Villa Rossi, il parco e tutti gli annessi compreso questo edificio, lo ha fatto con un sapevole che iniziava un percorso molto lungo e molto impugnativo. D'altra parte l'abbiamo fatto perché era troppo importante non lasciare cadere ulteriormente questi beni e cominciare a pensare a come riutilizzarli. Il percorso sicuramente è lungo, un piccolo risultato lo abbiamo già ottenuto ed è questo edificio. Con una ristrutturazione che credo tutti possono apprezzare abbiamo cominciato a riutilizzare questa casa, la Casa del Custode, inaugurata il 24 settembre di quest'anno e con un'estensione ben specifica che è la sede del laboratorio di educazione ambientale della provincia di Vicenza. Tuttavia è solo un piccolissimo passo in un percorso che noi vogliamo sia più ambizioso e che preveda in un tempo che credo sia difficile di finire adesso anche il recupero dell'intera Villa. Nel pensare a come recuperare la Villa ovviamente bisogna tenere presente prima di tutto la storia di questi luoghi. Quindi pensando ad Alessandro Rossi automaticamente si pensa al mondo imprenditoriale, a un mondo imprenditoriale però che aveva dei valori ben precisi e quindi quello che poi è stato definito lo sviluppo sostenibile, credo che sia anche quella che la definizione del termine a quel tempo probabilmente non c'era, però era già nella mente e nei modi di lavorare di Alessandro Rossi, che era un imprenditore ovviamente prima di tutto, che però sul sociale ha fatto comunque grossi investimenti, pensiamo all'asilo rosso di Schio, pensiamo anche alla destinazione che ha avuto per un periodo Villa Rossi. E anche sotto l'aspetto ambientale con il podere modello sicuramente il pensiero di sostenibilità era nella sua mente. In quel periodo probabilmente assieme a lui molti altri imprenditori importanti in Italia hanno avuto lo stesso approccio, pensiamo agli Olivetti o per restare più vicini a noi anche a Imorzotto, una longimiranza che probabilmente gli ha permesso di fare le storie. Quindi innanzitutto vogliamo che questi luoghi diano una certa continuità a questa storia e quindi l'aspetto dello sviluppo sostenibile diventa per noi fondamentale per pensare a come questi luoghi, quindi la casa dei custodi che è già utilizzabile ma anche nel futuro della villa possono ruotare intorno a questo concetto. L'altro aspetto che va sicuramente tenuto presente è quello delle sinergie. Visto la difficoltà è un percorso che dovrà essere particolarmente lungo, è impensabile che lo si possa fare senza una sinergia più ampia possibile. Quindi abbiamo già iniziato da qualche anno a coinvolgere su questo progetto il mondo imprenditoriale che è sempre stato presente e rappresentato anche stasera da delle istituzioni di categoria, dal mondo sindacale. L'altro aspetto fondamentale è sicuramente quello dei comuni del territorio dell'Alto Vicentino e direi anche più ampio di tutta la provincia, se possibile anche al di là della provincia. Quindi tre concetti, storia, sviluppo sostenibile e sinergia, vorremmo che ci aiutassero a far diventare Villa Rossi quello che abbiamo definito l'incumbatore di concetti di sostenibilità. All'interno di questo ragionamento che noi abbiamo fatto abbiamo riconosciuto in provincia italiana uno degli strumenti con cui tentare di fare un ragionamento per costruire le basi di questo ambizioso progetto. Quindi ringrazio Cristiano Saganfrae della provincia italiana, speriamo che con loro dopo questo primo anno di lavoro si possa continuare. Ringrazio tutti gli ospiti che abbiamo stasera con cui vogliamo, in base anche alle esperienze che hanno già fatto loro su tematiche simili a questa, avere magari dei consigli e perché no delle collaborazioni che magari iniziano stasera e potranno aiutarci in futuro. Ovviamente la presenza credo di stasera sia importante e qualificata e solo facendo sinergie, ripeto, tutti assieme possiamo tentare di costruire questo progetto. Quindi grazie a tutti e buona serata.